Professor Mazzella dopo dieci anni è tornato alla politica attiva chiamato dal sindaco Enzo Ferrandino. Lei farà parte di questa giunta con la delega alle politiche sociali e alla depurazione. È un'esperienza nuova insomma. Intanto è da ringraziare Enzo per la stima e l'amicizia che mi viene rinnovata e che veramente c'è da essere fieri. È un'esperienza impegnativa. Prima dicevo nell'incontro di maggioranza in questi giorni, ma ho fatto apposta, è volata sta notizia anche di Ischia tra le isole più belle del mondo. Questa classifica tra le prime dieci, ma anche la National Geographic. Questo ci chiama un impegno maggiore, anche un sussulto d'orgoglio a noi ischietani di mettercela tutta per salvaguardare, per tutelare questa nostra isola, così bella. E sono contento di un'esperienza che promette bene, perché è una bella squadra. Ecco, una squadra con colleghi veramente molto validi e tutti anche con uno spessore culturale e un amor patrio, come dire, che ci accomuna e che ci dà le condizioni per fare una bella esperienza insieme, secondo me. A lei una materia ossica, difficile, quella del depuratore. Del depuratore di San Pietro si parla da tanti anni, tante difficoltà. E infatti, adesso ho scelto questa nuova nomina di un nuovo commissario su questa materia e questo ci ha fatto penare tantissimo. Io ho coordinato per anni, sei anni, le esperienze della scuola di formazione politica Cosmopolis qui della diocesi e ho avuto modo anche di conoscere direttamente un po' la problematica che c'è dietro. Certo, un'isola del pregio di Ischia che non ha un depuratore è, come dire, un malus che bisogna, come dire, quanto prima ricorrere ai ripari. Bisogna mettercela tutta proprio per ottenere questo risultato che per noi è importantissimo. Anche come immagine, ovviamente, anche come qualità, diciamo, di un turismo ecosostenibile.